Ho scelto Gemar moltissimi anni fa sia per quanto riguarda la qualità e sia per quanto riguarda la gamma di colori. Mi giro il mondo per la Gemar ad insegnare questa magnifica professione. Allora ho conosciuto prima Gemar come prodotto nel 2008 in piena rivoluzione delle loro strategie, ovvero proprio quando Gemar ha iniziato a porre più attenzione al mondo della ballonarte, quindi più colori, più misure, più modelli di palloncini e più qualità. Ho scelto di lavorare con i palloncini Gemar perché hanno raggiunto un altissimo standard di qualità. Sono un Gemar Master, di questo ne sono onorato. È un'azienda che mi dà la possibilità di lavorare con degli ottimi prodotti, di poter girare il mondo e di poter trasmettere la passione che io ho per i palloncini. Gemar rappresenta l'Italia dei palloncini in tutto il mondo, è tradizione, è innovazione, è creatività, è responsabilità, è famiglia. Ecco perché ho scelto Gemar. Grazie all' Guide. Grazie a tutti.